C'è un vuoto politico, il dibattito politico, che certamente non è colpa del PD, ma è proprio un vuoto politico, è una scissione tra discussione sulle politiche per la famiglia che c'è sui media e invece poi il collegamento tra questo dibattito e le politiche concrete che vengono avanzate in particolare dal governo e nelle istituzioni.